ciao a tutti e bentornati allora oggi a grandissima richiesta non è vero non l'ha richiesto nessuno ma piaceva solo a me un bellissimo video hall targato de zenis con protagoniste le superchicche dice sì ok ma chi sono queste superchicche allora come non sapete chi sono le superchicche sono il fenomeno mediatico degli ultimi tempi secondo chiara io non lo so chi sono quindi non fate troppe domande andiamo subito a quello che è il video in questione che inizia con chiara gasatissima restando nel discorso gasatissima ha indossato per l'occasione una bella maglietta rossa della coca cola dice chi c'entra pensateci un attimo perché il nesso c'è ci racconta che questa collaborazione superchicche barra te zenis ha catturato subito quella che era la sua attenzione e di certo non poteva lasciarsi scappare quelli che erano i pezzi più belli della collezione che adesso ci mostra in appena 13 minuti di video partendo da due punti un pantalone della tuta di colore nero con disegnate tutte le superchicche super incazzate elastico e l'accetto in vita ed elastico al fondo la sua misura è una l pagata appena 19 e 99 centesimi e questa è andata poi abbiamo preso un paio di mutande nella stessa fantasia dei pantaloni ora le dimensioni di queste mutande sono decisamente ridotte dato che è un modello brasiliana ci approssimiamo all'estate quindi direi che ci sta pagate appena 6 euro e 99 centesimi nella taglia L ora però non fossilizziamoci in queste mutande e andiamo a vedere quello che è il prossimo articolo rappresentato da un capo che va interpretato dice perché perché si presenta come cuprispalle ed è in una misura top crop e trop e si presenta in un colore nero la particolarità di questo capo è che ha le maniche lunghe e su entrambe le maniche presenta dei disegni differenti su una ritroviamo una fila indiana di superchicche che appaiono un po' più tranquille e sull'altra manica c'è una scritta dice che c'è scritta in attimo che vengo a leggere c'è scritto the power poof girl ne cacata insomma cioè voglio dire è semplice ma di sicuro effetto il tutto pagato appena 14 euro e 99 centesimi che era un vero e proprio peccato lasciarlo lì insomma poi letteralmente colpo di fulmine per cosa per un completo così formato pantaloncini corti di colore rosa pastello con tutte le superchicche disegnate che appaiono pure felici elastico in vita e orlo smerlato mentre la parte alta è rappresentata da una maglietta a maniche corte nella stessa fantasia dei pantaloncini con l'orlo alle maniche e al fondo tutto smerlato costo totale 16 euro e 99 e che fai lo lasci lì ma che sei impazzita ora vi ricordate i pantaloni della tuta di prima inizio vlog inizio video bene perché adesso abbiamo la maglietta abbinata ciao ciapa nella stessa fantasia nera con tutte le superchicche disegnate le maniche sono lunghe e la particolarità di questa maglietta è che al fondo presenta una culisse che a che serve sta culisse insomma va a regolare l'ampiezza della maglietta nel senso che se dormite da soli stringete al massimo se dormite in compagnia lasciate pure libera la maglietta ecco a questo punto del vlog abbassiamo un attimo le luci e i toni si fanno un po' più occupi perché perché a questo punto del vlog parte una piccola rimostranza da parte di chiara nei confronti di chi miei ma no ma che sei pazzo nei confronti di Dezenis e chi come loro scelgono di produrre e proporre capi nella taglia fino alla L ora questa rimostranza non è per quanto riguarda la sua persona perché lei con la taglia L ci veste benissimo ma lei parla più che altro per quelle donne che sono un pochino in carne e quindi a cui viene impedito di vestire col marchio Dezenis e quindi qual è la sua proposta in merito? quella di produrre tutte le linee almeno fino alla taglia XL così si dà modo a tutti di poter diventare clienti felici di Dezenis e adesso potete riaccendere le luci ora perché che succede? perché abbiamo da fare un discorso serio dal sito Tezenis lei ha visto che di questa collaborazione con le superchicche c'erano un bel po' di articoli interessanti tra cui anche dei costumi da bagno dei bermuda dei reggiseni dice sì ok ma allora perché non li ha comprati? è un attimo che impeto non li ha comprati perché ad esempio i reggiseni arrivavano fino alla taglia quarta e lei indossando una quinta ha ipotizzato che la vestibilità di questi reggiseni non sarebbe stata comoda dice ok ma cerca di fare un esempio un po' più dettagliato che renda bene l'idea e non posso perché altrimenti il video mi andrebbe in restrizione e quindi la taglia non era giusta e lei ha desistito ora se proprio vogliamo dirla tutta quando c'era stata la collaborazione tra Hello Kitty e Dezenis i reggiseni nella taglia quinta li avevano prodotti tanto che lei l'aveva pure acquistati e si era trovata benissimo ora la prima domanda utile che mi viene in mente così su due piedi è come mai per Hello Kitty li hanno fatti fino alla quinta mentre per le super chicche fino alla quarta forse perché il target di vendita per le super chicche è di forse ragazze giovanissime adolescenti dicono magari come fanno queste ragazzine a portare la quinta e qui qualcuno potrebbe dire vabbè ma lo stesso ragionamento potrebbe andar bene anche per quanto riguarda Hello Kitty e vi dico no perché ne abbiamo un eclatante esempio che per la mia incolumità vorrei evitare di fare nomi perché il fatto di vedermi recapitare dei bomboloni cioè non so come potrei prenderla sono una persona estremamente sensibile ora in conclusione di questo mio strepitoso vlog perché quello di Chiara è già bello che è finito vorrei fare qualche considerazione in merito al vlog che ho appena video commentato allora una delle cose che mi ha colpito maggiormente il fatto che Chiara spende tantissimo tempo a giustificare il fatto che a lei le entri o meno una L, una XL, una S, una M questo atteggiamento potrebbe avere due letture la prima un'insicurezza di Chiara che ha bisogno ogni volta di confermare che lei non è come appare o meglio come vogliono dipingerla mentre la seconda lettura potrebbe essere tranquillamente che Chiara rimarca appositamente la faccenda delle taglie proprio per sollevare eventuali critiche barra polemiche per poi rispondere mediante le sue live boasta dai titoli molto discutibili e qui chiedo assolutamente il vostro parere in merito cioè nel senso cosa pensate che sia al solo scopo di autoconvincersi di essere una persona migliore di quella che descrivono oppure fatto tutto apposta perché aspetta proprio che arrivano critiche per poi rispondere ora a proposito di titoli discutibili ho visto il titolo di una delle ultime live di Davide credo sia stata in occasione della Domenica delle Palme e il titolo era Fate pena Vermi dove lui all'inizio di questa live dice proprio tanti auguri, buona festa delle palme, una cosa così e va a cozzare con quel titolo che poi tra l'altro ho visto che non la penso solo io così perché sotto nei commenti della suddetta live ci sono tante persone che si lamentano proprio per l'abuso di questi titoli poco ameni anche perché adesso a pensarci anche questo abuso di questi live discutibili è controproducente per loro stesse perché se prima ce n'erano di live guasta due al mese adesso ce ne sono due al giorno e su canali differenti quindi vanno a perdere di intensità qualcuno potrebbe dire dettaglia meglio questo concetto allora come ad esempio se noi anziché mangiarlo solo a Natale il panettone lo mangiavo tutto l'anno quindi quando arriverà il Natale oramai ce l'ha stufato non ci va più stessa cosa come la faccenda delle email moleste che guarda caso per colpire lei però puntualmente offendono sempre o Davide o la signora Luciana il che mi sembrava alquanto strano dato che del trio è lei no? il capo cioè ma chi è che vuole colpirti e ti fa delle email del tipo tu sei bellissima sei molto intelligente ma com'è che ti sei preso quel pioppo a fianco perché comunque ti meriti di meglio e quello è stupido quello è pazzo quello è delinquente cioè mi sembra strana come cosa beh che dire assolutamente andremo poi ad approfondire questo discorso nel frattempo io vi auguro buona continuazione di serata data l'ora e vi do appuntamento a quello che sarà il prossimo contenuto un bacio a tutti da Gossip grazie 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 grazie